Siamo al forte, un po' più tranquillo, è proprio l'alzata di voce proprio, ha detto, ora l'ammazzo, ora l'ammazzo, la grezzagine, la grezzagine, non c'è ancora, girate tutto, bravo, il complotto, il complotto, il complotto, il complotto, andiamo a conoscere, un giretto per il forte, quando vieni qui, devi portarla a tua mamma, a te Zenni, a fargli un regalo, devi comprare qualcosa, o a tua mamma, o a te regalare qualcosa alla tua mamma, te Zenni è il costruito, Siamo sì, vediamo dietro di noi, abbiamo un ambiente poco ostile.